Ciao a tutti, con questo video vado a presentare un nuovo servizio. Tanti di voi mi scrivono email, messaggi privati. Renato, cosa ne pensi dell'euro dollaro? Cosa ne pensi di Fiat? Cosa ne pensi del Fuzi Mib? Cosa ne pensi del DAX? Cosa ne pensi dell'S&P 500? Cosa pensi del Nasdaq? Cosa pensi dell'oro? Cosa pensi del petrolio? Cosa pensi di Apple? Cosa pensi del titolo? Non mi vengono più, insomma, titoli, vari titoli. azionari. Ebbene sì, grazie a Itoro, e già probabilmente avete visto nella sigla, quella che sarà la sigla, parte il servizio video analisi on demand, quindi finalmente potrò, io già cercavo nei limiti del possibile rispondere un po' a tutti, dal 3, 3 aprile, parte ufficialmente, quindi il servizio video analisi on demand, vedete già alla mia destra è scritto l'indirizzo email, il mio, al quale scrive, mandarmi le vostre richieste di analisi. Ogni giorno ci sarà un video in cui andrò, cercherò di raggruppare ovviamente il numero maggiore di richieste, se mi chiedete la maggior parte, quell'indice, quel titolo, quel cambio, insomma cercherò comunque di soddisfare tutti. E comunque anche se non dovessi soddisfare tutti, la mia analisi sarà presente anche sul sito di Itoro, che è il broker numero uno al mondo per quanto riguarda i social trading, quindi sulla bacheca mi potrete taggare, chiedere analisi, anche lì cercherò di interagire il più possibile con voi. Quindi dal 3 aprile nasce quest'altro servizio gratuito, grazie a questa nuova partnership con il broker Itoro, mi potrete chiedere tutte le analisi che volete sugli strumenti di vostro interesse. E io cercherò, ripeto, di soddisfare un po' tutti, insomma, vedremo, vedremo. Comunque venite anche sul sito di Itoro, nella bacheca, lì si potrà interagire anche con me. Quindi dal 3, 3, 3 aprile settimana prossima, ma già adesso potete scrivermi, richiedere le vostre analisi. Eventualmente c'è la lettera I sopra la mia testa, che è sempre a disposizione, vi rimanda già al sito internet, anche la trovate come spiegato, ma già ve l'ho detto adesso, praticamente solo una semplice email in cui mi chiedete l'analisi del titolo. Indici, stranieri, italiani, potete sbizzarrirvi come preferite. Bene, quindi dal 3 aprile parte questo nuovo servizio Video Analisi On Demand. Arrivederci e grazie. 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 Grazie.